Il raid aereo della coalizione russo-siriana che ha ucciso Zahran Al-Lush e altri rappresentanti dei ribelli alla periferia di Damasco è un colpo per i salafiti indipendenti dall'ISIL. Il capo di Jaysh al-Islam è stato preso di mira mentre partecipava a una riunione con altre formazioni ad Al-Ghuta, sobborgo della capitale, considerato la roccaforte del suo gruppo. Jaysh al-Islam ha già annunciato che a succedergli sarà uno dei leader militari della formazione Abu Hammam al-Buaidani. Il gruppo è una delle principali fazioni che hanno partecipato ai recenti colloqui dell'opposizione siriana a Riyadh e dovrebbe andare ai negoziati col governo di Assad a Ginevra. Al-Lush aveva studiato in Arabia Saudita dove aveva fondato insieme a suo padre il movimento Brigata dell'Islam. Arrestato in Siria era stato rilasciato dalle autorità di Damasco come gesto di buona volontà all'inizio della rivoluzione siriana.